Oggi pomeriggio all'interno del Festival Città Impresa abbiamo parlato di aziende e sostenibilità. Abbiamo portato l'esperienza di Viacqua. Viacqua è un'azienda del settore idrico integrato, ma della sostenibilità ovviamente ne ha fatto il suo programma. Il piano industriale con grandi investimenti per renderla sempre più sostenibile nella difesa dell'acqua, ma anche sul piano finanziario. Difatti abbiamo parlato di questo, della possibilità che le aziende del settore idrico si finanzino attraverso l'Hydrobond e attraverso questi fondi, si chiamavoli green, sostenibili. Anche la finanza, assieme al mondo dell'impresa, può creare quella sostenibilità che vuol dire anche attenzione, consapevolezza di questo momento. Sono temi che affronteremo anche nella prima settimana di maggio all'interno della Green Week che si svolgerà a Parma.